Si avvicina la data del 26 maggio, giorno in cui si potrà votare per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte. Allora andiamo a presentare una delle candidate che è venuta qui nei nostri studi a trovarci, Carlotta Salerno, dei moderati per Chiamparino. Buongiorno a tutti, grazie. Senta, facciamoci conoscere, diamo un breve curriculum vite, insomma, quali sono state le attività, le battaglie che l'hanno contraddistinta nei suoi anni di attività politica, perché ricordiamo, insomma, banta un curriculum davvero importante. Sì, io ho iniziato in realtà molti anni fa, 2004 all'incirca, proprio nei moderati facendo l'osservatore del territorio, quindi mi dedicavo a occuparmi del quartiere, le problematiche del quartiere, segnalarle, cercare di collaborare per il bene del quartiere. Poi insieme ai moderati ho cominciato a collaborare con il Comune di Torino, per il Comune di Torino e mi sono occupata di svariati argomenti, il commercio, la polizia municipale, ma anche i servizi civici, anche le relazioni internazionali, ho avuto modo di lavorare in diversi settori. E poi nel 2013 sono diventata la coordinatrice cittadina provinciale dei moderati e nel 2016 presidente della circoscrizione 6, prima anche assessore al Comune di Boncalieri, all'ambiente e alla protezione civile. Ma dal 2016 ho l'onore di amministrare questa circoscrizione di periferia, la circoscrizione 6, che come dico spesso è un luogo difficile, ma per me è il posto più bello del mondo. Bene, dunque tanta esperienza per il bene del territorio, ora chiaramente lo cerchiamo di portare nell'ambito della regione Piemonte, ci sono dei suoi punti focali sul quale si incentrerà in questa sua esperienza? Ci sono vari temi sui quali vorrei lavorare, spesso nel senso della continuità, perché i moderati si candidano con Chiamparino e quindi pensiamo che i cinque anni precedenti siano stati anni di buon governo. E come moderati vogliamo puntare allo sviluppo del territorio, vogliamo un Piemonte che continui a crescere, ad essere forte e che diventi sempre più centrale per l'Italia. Io quindi mi propongo di lavorare in questo senso e quindi di mettere il Piemonte al centro di politiche importanti e cercare di renderlo un luogo adatto a noi, ai nostri figli e per fare in modo che anche i ragazzi non debbano fuggire, non debbano andare fuori, possano trovare qui tutte le loro opportunità di crescita. In questo senso ci sono vari argomenti sui quali vorrei lavorare. L'esperienza in circoscrizione 6 anche mi ha dato una grande sensibilità sui temi sociali e sui temi dell'assistenza, perché qui la popolazione anziana è molta. E quindi credo che sia necessario un investimento, un intervento forte a sostegno della popolazione anziana e delle persone che assistono pazienti e parenti anziani per lungo tempo oppure situazioni di disabilità. È necessario che la Regione Piemonte fornisca, oltre all'assistenza sanitaria, anche una presenza sociale e che faccia da coordinamento tra le tantissime realtà di volontariato che di questo si occupano. Quindi insieme come Regione dobbiamo lavorare sul miglioramento e sull'applicazione della legge 104, ma anche sull'applicazione del dopo di noi per cercare di intervenire concretamente nella vita quotidiana delle famiglie. Ma poi anche l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e quindi il fatto che la formazione professionale sia adeguata alle richieste del mercato, creare un serio incontro tra domande e offerta. Le politiche per la casa, perché il diritto alla casa è un diritto fondamentale sul quale dobbiamo lavorare insieme, bisogna garantire anche il diritto alla casa. L'edilizia scolastica. In circoscrizione 6 abbiamo vissuto situazioni anche difficili rispetto alle strutture scolastiche, degli edifici scolastici. Quindi è necessario che ci sia, oltre a un fondo nazionale, un fondo regionale. È necessario che la Regione si occupi attivamente sempre di più dell'edilizia scolastica e dello stato delle nostre scuole e che gli interventi vengano garantiti in tempi brevi e certi, in modo da dare sicurezza ai nostri figli e sapere che vanno in luoghi sicuri. Poi, tutto ciò che riguarda l'ambiente e i diritti degli animali. Sull'ambiente, in particolar modo, sempre per l'esperienza che ho avuto amministrativa, ritengo che sia necessario valorizzare tutto il mondo del volontariato, ad esempio le guardie ecologiche, che si propone di avere cura dell'ambiente, di controllare l'ambiente per supportare tutti gli organismi che già se ne occupano. Questo volontariato ambientale va normato, valorizzato e sostenuto perché può essere una risorsa preziosissima. Ad esempio, laddove ci sono problemi, abbandono dei rifiuti, il volontariato ambientale può intervenire, può controllare, può monitorare, può anche svolgere una funzione importante educativa. Senta, io volevo ancora incentrarmi su due ambiti che la riguardano molto da vicino. Uno è quello dei trasporti, perché essendo presidente di circoscrizione in un quartiere dove si parla sempre di metropolitana, volevo capire questo punto. E poi, dalla sua esperienza all'assessorato allo sport, anche lì c'è un altro tema, che è quello dello sport. Allora, vogliamo focalizzarci anche su questi due temi. Sì, grazie. Sì, il tema della Metro 2 è un tema che caratterizza il dibattito sul territorio e per quanto riguarda l'area Nord, ormai da tempo, i cittadini hanno fatto sentire la loro voce in modo molto chiaro, sia con la petizione che col dialogo col Comune. Da presidente della circoscrizione 6 ho chiesto in ogni modo e manifestato la necessità, perché non è una volontà, è una necessità che la metropolitana parta dall'area Nord per dare a questa zona una prospettiva e una riqualificazione. E quindi, nel ruolo regionale, vorrei continuare ad accompagnare questo percorso e soprattutto monitorare che il Comune di Torino non abbia ambiguità. Perché quello che abbiamo lamentato più volte è che abbiamo trovato ambiguità nei confronti dell'atteggiamento verso la metropolitana. Serve, non serve, parte da Nord, parte da Sud, mettendo avanti questioni tecniche come se fossero prioritarie. Le scelte riguardanti il futuro di un territorio sono scelte politiche, sono scelte che deve fare l'amministrazione per cercare di dare una prospettiva. Non sono scelte che sottostanno solo ad elementi tecnici. L'aver lavorato per un periodo all'assessorato allo sport mi ha dato modo di conoscere sempre di più le realtà e poi in circoscrizione ho avuto la possibilità di conoscere sempre di più le associazioni sportive. La legge sullo sport è una legge, diciamo, del 95, quindi una legge per tanti versi datata. E quindi, chiaramente, questo è un percorso che bisogna fare insieme, però va rivista in molti aspetti, soprattutto per quanto riguarda anche l'impiantistica sportiva, per dare modo ai comuni di rispondere alle esigenze dell'attualità che sono diverse da quelle di anni fa. Gli impianti sono molto diversi, le strutture economiche sono molto diverse, quindi bisogna dare delle risposte al presente e non bisogna rimanere ancorati al passato. Bene, allora io ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi la candidata alle elezioni regionali, Carlotta Salerno, dei moderati per Chiamparino. Grazie. Grazie.